Brutus Ghali, politico e diplomatico egiziano, segretario generale delle Nazioni Unite dal 1992 al 1996, è morto all'età di 93 anni. L'agenzia ufficiale egiziana, MENA, precisa che Ghali è deceduto all'ospedale Al-Salam di Giza, a darne l'annuncio l'ambasciatore venezuelano all'ONU Rafael Ramirez che ha la presidenza di turno al Consiglio di Sicurezza. Un leader memorabile delle Nazioni Unite in un periodo particolarmente turbolento, ha detto l'attuale segretario generale Ban Ki-moon. Nato in una influente famiglia copta del Cairo, il nonno è stato primo ministro dal 1908 a quando nel 1910 fu assassinato. Durante il suo mandato all'ONU ha fatto fronte a numerose crisi internazionali, dalla dissoluzione della Jugoslavia al genocidio in Rwanda, i più grandi fallimenti delle Nazioni Unite. Nel 1995 la sua mediazione fu decisiva per la pace in Guatemala e mise fine a un conflitto costato in 30 anni, oltre 150.000 vittime tra morti accertati e desaparecidos.